Grazie a tutti, un ottimo podium oggi! Sì, grazie. Dopo il giro ho avuto una buona legge e con la mia squadra ho parlato per riferire questa gara perché dopo il giro normalmente la legge è in alto quindi ho deciso di riferire e tutto il giorno con la mia squadra in fronte e ho salvato molta energia con la mia squadra, grazie per salvare tutto il giorno e alla fine ho scelto per la sprint Grazie a tutti.